Io conduco un'attività in interrotto di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, è meglio essere appassionato delle belle ragazze che gay. Spogliatoio! Ma che gli fa le donne con quegli occhi? Ma che gli fa le donne con quegli occhi? Come che gli fa le donne con che gli fa le donne con che gli fa le donne con che gli occhi?